è arrivato un pacco bruno guarda un po' bruno fermo fermo aspetta no no apriamo insieme il pacco non così tira bravissima io penso ci sia il metodo ideale no ho comprato una cosa per bruno adesso ve la mostro questa è qui adesso andiamo a inserire proprio dove tu stai pensando così esatto qui non ci posso credere è troppo carino wow adesso è la prova del dolore devi mangiare la felpa bruno vai oh non ho sentito nulla è meraviglioso è meraviglioso non ci posso credere non ci posso credere l'asfolio